Dal 2 settembre alle 20.40 parte Blackjack, il nuovo quiz show della UNO. Se hai voglia di divertirti, se ti piace il rischio e se le sai tutto, Blackjack fa il caso tuo. 21.000 franchi sul piatto ci sono. Io, Fabrizio Casati, ti aspetto. Iscriviti. Blackjack at rsi.ch oppure www.rsi.ch slash blackjack.